Sono Grazioli Francesco, conduttore della ditta Grazioli, Domenico, Carlo, Francesco e Luca. Ho sostituito la paglia con i materassini e paglia aveva un costo e in più la fatica quando si divetteva la paglia. Subito dall'inizio abbiamo visto il cambiamento con la fatica e la qualità del latte. Fino a quando ho messo i materassini avevo le cellule abbastanza alte, sulle 300.000 di cellule. Adesso con i materassini sono arrivato a 83.000 di cellule. Anche le sporegidi che ci sono nel latte, tre o quattro mesi che non ho più niente, sono sempre assenti nei cartellini. Con la paglia erano nello sport perché i materassini sono sul pulito e riposano di più e quando devo farle alzare devo dirgli di venire su più in fretta, alzare un po' la voce per farle alzare. Comunque anche sui piedi e sulle gambe, sui garretti e così non ho trovato, come dicono tanti, che si fanno male, si rovinano i garretti e così. Io non ho trovato questo anzi, non sono rovinato. Quando avevo la paglia impiegavamo una giornata per riempire 70 cuccette ogni tre giorni. Invece i materassini, un po' di segatura e una spolverata di sanificante e basta. Un quarto d'ora di tempo, due volte a settimana. I tempi si sono ridotti moltissimo. Super veloci sono stati, non veloci. Mi sono trovato bene e se dovessi avere ancora il posto attraffare di materassini, vanno ancora attizzato.